ragazzi se vi fa piacere iscrizione gratis al canale se vi fa piacere se no va bene lo stesso anche se l'è gratis allora facciamo il punto della situazione ci sono delle cose che non ci tornano assolutamente tutto sport fa un grandissimo minestrone prima arriva l'offerta da un fondo saudita di un mila di un miliardo e tre poi dopo poi dopo l'offerta c'è la due diligence di in the scope non torna tutto prima si fa la due diligence si studiano i conti e poi si fanno le offerte da che mondo in mondo noi abbiamo anche persone fanno gli advisor quindi eh nel nostro team quindi ragazzi non che che acquistano aziende le ristrutturano le rivendono non diciamo cazzate è stato fatto un grande minestrone bisogna essere corretti perché tanto la correttezza l'onestà paga sempre a mio avviso e mi dissocio perché c'è qualcosa che non mi torna in quello che stanno dicendo indipendentemente da Invescorp perché Invescorp lo sappiamo tutti è un raccoglitore di soldi poi dopo si vede qualora fosse Invescorp come società veicolo si vede da dove arrivano i soldi addirittura stamattina poi scrivono un'altra versione ancora considerato da più parti in ambienti finanziari e legali milanesi viene confermato l'ingresso in scena di un interlocutore forte per Suning da quando risulta il fondo composto da imprenditori sauditi il fondo Mubadala Mubadala Saudita Invescorp che a sera in Bahrain ma gode di fondi provenienti dall'Arabia Saudita questo è vero perché gestisce soldi dell'Arabia Saudita Invescorp non confermiamo non smentiamo Invescorp ma allora avete scritto riportato da Calcio e Finanza che è arrivata un'offerta da un miliardo e tre da un fondo saudita Invescorp fa parte del Bahrain poi dopo l'offerta del fondo saudita Invescorp fa la due diligence ovvero sia studia i conti poi ci sono due advisor Rain Group o Goldman Sachs l'ho detto ieri in questi casi c'è l'esclusiva o è Goldman Sachs o è Rain Group non possono essere due advisor ci sono troppe cose che non che non tornano ne ne parlavo anche stamattina con i ragazzi cioè cioè se è in corso la due diligence cioè com'è possibile abbiano formulato un'offerta da un miliardo e tre che poi l'offerta nemmeno da Invescorp ma da un fondo saudita cioè ragazzi avete scritto troppe cose che non tornano è giusto secondo me ovviamente detto in senso amichevole dissociarsi da tutte queste cose che non tornano non tornano quindi io confermo il fatto che per noi saranno i sauditi a capo di tutta l'operazione con la banca centrale dell'Arabia Saudita Sama io questo lo confermo non cambio assolutissimamente versione ma le cose che scrive tutto sport ragazzi non torna non torna non torna nulla non torna nulla cioè hanno scritto fischi per fiaschi confondono i sauditi o quelli dei Barenne Mubadala fondo saudita cioè stanno facendo un bordello Invescorp quando va a trattare in Milan c'era già dentro Mubadala per un 20% eh non è che non c'era Mubadala perché Mubadala in Invescorp ha un 20% quando dicono che hanno solo 600 milioni per liter e 6-7 mesi fa che devono raccogliere i soldi Mubadala c'era già dentro quindi di cosa stiamo ragionando è una roba difficile bisogna essere preparati per raccontarla per quello io ho avuto la fortuna di affidarmi a dei professionisti perché infatti loro ora stanno smontando tutto quello e scrive tutto sport ma perché perché per loro sono cose semplicissime ma ma sono semplici anche per voi ormai se avete seguito le live guarda in diretta ve lo dico in realtà può procedere nella manifestazione di interesse non vincolante o prese abbastanza comune o per operazioni particolari ma è tutto sempre condizionato alla due diligence che consente di avere la fotografia reale della situazione societaria nella sua interezza quindi come fai a fare prima l'offerta e poi a fare la due diligence? non esiste noi ci dissociamo da questa cosa qua è bene essere iari noi ci dissociamo poi dopo ci sarà un approfondimento nel pomeriggio dopo la partita la partita di Empoli ragazzi sembra facile non è? Andrea Zolli deve lavorare molto sulla testa dei giocatori perché l'Empoli non ha fatto un gol le ha perse tutte quindi via Zanetti via 4-3-3 di Zanetti secondo me non aveva nemmeno gli uomini per fare quello schema entra dentro Andrea Zolli un ottimo meccanico che aggiusta le squadre in corsa molto bravo a livello psicologico ed è lì che lui avrà lavorato Empoli campettino piccolo non è San Siro quindi anche lì devi giocare in maniera diversa ci sarà tanto pubblico loro fondamentalmente non hanno nulla da perdere quando giochi oltre le squadre non hanno nulla da perdere attenzione attenzione non è che vai lì e gli dai 7-8 peri e torna a casa attenzione complimenti a Gatti per la perla ieri da mai dire gol ve lo ricordate mai dire gol Gatti fa un gol e quindi ragazzi occhio eh perché sono contento che giochi frattesi barella riposa mi frattesi Turam non può essere panchinato ad oggi non può stare in panchina riposarsi sono ragazzi di 26 anni cosa ti vuoi riposare Turam ad oggi non lo puoi tenere in panchina poi dopo quando si stende il risultato fai entrare Arnautovic un quarto d'ora e venti minuti sulle riserve ieri io ho fatto un video dicendo è vero ma io l'ho dato per scontato nessuna squadra alle riserve appare il livello dei titolari nemmeno Real Madrid, City però io ti dico il l'Inter ha tante riserve su cui non puoi fare affinamento è quello che dico ho fatto 5-6 nomi ieri questo volevo far intendere ciao Inter ci becchiamo più tardi grazie